Dopo la cacciata di Marino, che è il fallimento del Partito Democratico e di Renzi, a mio giudizio, e a giudizio anche di molti dei romani, io mi auguro veramente che il prossimo candidato sindaco sia il frutto non di quel metodo vecchio della solita politica dove si sceglie il personaggio di grande, bello, buono, ma in realtà si scelgano prima i programmi contenuti e quindi le risposte a dare alla città e poi il miglior portabandiera. Come si sa, è chiaro che ci sono in questo momento, almeno lo schieramento di centrodestra, ci sono delle possibili candidature, noi attendiamo di sapere quale sarà anche una candidatura certa, ad oggi si parla, non c'è nulla di sicuro, quello che è certo è che il movimento Noi con Salvini a Roma ci sarà, presenterà la propria lista e appoggerà il candidato o promuoverà una propria candidatura sulla base però della condivisione delle risposte alle romani perché oggi la politica a Roma deve fare solo questo.